Mattinata di presentazione della nuova giunta regionale delle Marche qui al Palazzo della Regione di Ancona. Tre nuovi assessori, Chiara Biondi, Goffredo Brandoni e Andrea Antonini, entrano a far parte della giunta a Quaroli al posto di Castelli, Giorgio Alattini e Mirko Carloni che sono approdati in Parlamento. Una mattinata non solo di presentazioni ma anche di rinnovo di impegni per il presidente a Quaroli che ha voluto ricordare quelle che sono le priorità di intervento alla luce del grave imprevisto dell'alluvione ma anche di quello di questo rimpasto politico che ha rallentato alcuni macro-obiettivi dalle infrastrutture al piano sociosanitario a quello urbanistico. Dopo la riforma delle aziende sanitarie arriverà il nuovo piano sociosanitario che sarà fatto alla luce degli studi di approfondimento sul fabbisogno e che ci potranno permettere una riorganizzazione, una riprogrammazione che possa essere più equilibrata, che sarà attenta a limitare la mobilità passiva e soprattutto a recuperare risorse per poter distribuire. Chiaramente questo avviene in un quadro dove l'emergenza sanitaria soprattutto per la carenza dei medici è un'emergenza elevatissima a livello nazionale. Noi stiamo lavorando con le borse sia per i medici specializzanti ospedalieri sia per i medici di medicina generale, ma la mancata programmazione porta a un deficit che oggi vediamo che è un deficit molto pesante. I risultati che vedremo rispetto a quelle che sono le borse che noi abbiamo messo in campo per i medici di medicina generale potranno essere tangibili entro i prossimi 12-24 mesi per i medici ospedalieri dovremmo aspettare di più. Certo è che nel frattempo la riorganizzazione e la creazione di strumenti, strutture diverse tipo quelle del territorio, potranno portare a un approccio differente rispetto agli accessi dei servizi sanitari. Sulle altre riforme, non solo quella del piano socio-sanitario, c'è quella del piano delle infrastrutture e la legge urbanistica che è la legge del governo del territorio tanto attesa perché l'ultima legge è stata varata nel 1990 e quindi a 30 anni di distanza con tutto lo sviluppo che si è visto si è resa non solo necessario ma indispensabile per consentire al nostro territorio uno sviluppo che sia in linea con i standard attuali. Ma naturalmente l'alluvione resta un tema pressante in agenda che viene rinnovato di impegno anche alla luce del nuovo governo entrante di Giorgia Meloni. La prima cosa che chiediamo è una risposta chiara e in maniera inequivocabile rispetto al tema dell'alluvione. Noi vogliamo poter dare delle certezze e vogliamo poter dare sia in termini di azioni da mettere in campo sia in termini anche di risorse da mettere rispetto a quelli che sono i danni subiti dai privati, dalle imprese e da tutti i comuni. Credo che questa risposta sia una risposta che è indispensabile per ridare credibilità alle istituzioni perché purtroppo queste popolazioni aspettano ancora risposte dal 2014.